Questa è la risposta a tutto ciò che sta accadendo, ci facciamo noi le pulizie da soli, facciamo la bonifica del territorio con i nostri mezzi, a nostre spese, perché non ci ascolta nessuno, perché noi qui stiamo lavorando, abbiamo attività commerciali, ci sono persone che vivono dentro questi manecci, dentro questi ristoranti che danno da mangiare, danno lavoro a numerose famiglie, mentre le nostre parole non vengono ascoltate e la Pineta continua a prendere fuoco e non vengono prese delle iniziative sufficientemente importanti, noi bonifichiamo la nostra area, voglio vedere che qualcuno ci ascolta, tutto da soli dobbiamo fare. Questa è una parte, questa è l'altra parte. Noi operatori ci diamo da fare per bonificare quello che comunque dovrebbe essere tutelato da tutti. Grazie.